Il Comune di Napoli ha annunciato l'avvio di quattro iniziative inerenti alle pari opportunità che avranno inizio in breve termine. In primis la stabilizzazione dei laboratori per l'alfabetizzazione digitale, un progetto di insegnamento delle conoscenze informatiche rivolto a donne e persone LGBTQI, la diffusione e la promozione di voucher taxi prepagati ad utilizzo esclusivo delle donne, la nascita dell'archivio delle donne italiane in collaborazione con l'associazione Unione Donne Italiane che consentirà la fruizione di un centro dati sulla storia delle donne napoletane ed Italia. Infine l'avvio di un cineforum ai quartieri spagnoli denominato Donne in controluce iniziato a febbraio e che terminerà il 27 giugno. Ascoltiamo la consigliera comunale Simona Marino delegata del sindaco per le pari opportunità. Siamo riusciti ad avviare sul bilancio 2015, sono progetti che riguardano innanzitutto la sicurezza, cioè consentire alle donne di potersi muovere con maggiore sicurezza nelle ore notturne e sono i taxi rosa. È un progetto in via sperimentale perché non avevamo molte risorse a cui attingere, però avviamo un percorso che spero di poter poi potenziare con i fondi della comunità europea. Attiviamo i laboratori di informatica perché a Napoli c'è quello che viene definito il digital divide per cui le donne hanno meno accesso a internet, conoscono meno l'utilizzo del computer e quindi è anche di potersi mettere loro sul mercato con le loro iniziative e consentiamo così alle donne di fare 20 ore, sono 600 ore in tutto e 30 laboratori in tutte le municipalità. Abbiamo già preparato tutta l'attrezzatura per poter sia avere i voucher, 5 per ogni donna, sia poi per partecipare ai laboratori digitali. Quindi noi presentiamo qualcosa che è già operativa.